ciao amici 15 agosto ferro agosto 10 gradi fantastico vediamo se troviamo il numero uno passato un anno da quando l'ho messo il primo nano e adesso andiamo a vedere è nata la casetta ma qui c'è il cenericato anche quest'inverno ciao amico in piena salute l'amico come stai hai visto gente te adesso porto in camper ti pulisco ti pitturo e te li porto in due ore te li porto a casa va bene d'accordo ci avevo messo anche il soldino ed è ancora qua non l'ho tocco perché è suo bisogna rifagli anche la casetta però no la casetta no ho una sorpresa per te te la faccio vedere dopo però sono un po migliorato dai dall'italia ciao amico ricapitoliamo quelle la sono le terme di valgrande a padola la strada che vien su si sceglie per il per padola di lì si va a lunelli noi andiamo di qua verso il bosco attraversate il ponte e lì in fondo a sinistra verso padola guarda che porta a padola di qui un sentiero che porta una specie di diga e di qui il bivio che porta all'acqua puzza dove ci sono i ragazzi andiamo togliamo un po di robetta qua c'era la sua grottina il suo soldino lo prendo in prestito e lo metto qua ecco qua ci mettiamo la casetta ecco qua i miei aiutanti mi portano i sassi ciao ragazzi grazie ciao no faccia abbiamo anche l'arma per difenderci dai sassi sassi ragazzi c'è uno sassi questo è bellissimo si può fare un tavolino perfetto perfetto i dati si chiamano ricchi e davide parte integrante del team occhio che sono dappertutto ancora un po e poi basta devo fare un po di giardinetto grazie poi c'è anche un'altra del team l'elisa supervisore ciao elisa ciao e allora eccolo qua di nuovo vestito ti piace la casa? ti ho portato anche un amico dove ti metto te? qua qua così ti ha portato pensolo hai visto che che spettacolo è morto non si è disteso vi metto così non proprio attaccati se no mai troverai da avere ecco qua ci vorrebbe un rametto di pino da mettere qua ragazzi e c'è anche il cartello e questo glielo mettiamo qua ecco qui abbiamo tanti del team abbiamo da sabri abbiamo da catty un rametto ho trovato qualcosa per fare un po di ombra perché quando c'è il sole poi si buciano eh fa caldo siete contenti? ah il soldino mamma mia scusa metti qua il soldino del suo del tirchioaga ecco così mimetizziamo lì un po' se no troppo facile trovarli perfetto grazie siamo quasi a posto eccolo qua ragazzi al prossimo anno